Allora di giallo vai dai pink oran guardalo oran Dai io ero lì in letto è roberto cazzo Non ho capito può ripetere meglio per favore Tranquillo vado Ok questo è Dynamo Perché sta cosa? Valerio Che cazzo è successo? Valerio Ciao Adria Perché mi sono ritrovato in una stanza da solo da qui? Non ho dovuto fare un casino per uscire Ma penso che mi hai dato un po' un pugno Adesso sono andato a solo un pugno Come funziona questa pallina? Cioè la devo Sono caduto! Ah e poi con questa web non sembrano un ciccione Che non sono ciccione Cioè vedete che sembra sono magrolino Andiamo Allora guardate ragazzi adesso Potremmo fare anche just chatting Just dance Oh si Oh yeah Oh si oh si oh yeah Allora Amina Oh yeah Grazie a tutti. E' impossibile, ti giuro, suonare due strumenti insieme. Mi regali il pass? Sì, guarda, aspetta, aspetta. Aspetta. Papà, senti, tu sei ricco, no? Puoi regalare a tutti la sub nel mio canale. E' il pass pure di brullarla, assolutamente. Va bene? Grazie papà, grazie. Io l'ho detto, ha detto che compro il pass a tutti. Ho chissato. No! E' questa è l'altra volta da solo. No, mi hanno ucciso. Ripple, GG. Bene ragazzi, guardate queste pentole ragazzi. Guardatele, guardate queste pentole. Guardate ragazzi, questa pentola è tutto acciaio Linux. compratele anche voi, compratele, ordinatele. Soltanto voi avrete questa offerta ragazzi. Soltanto voi avrete questa offerta. 50% di sconto, più poltrona gratis, più la nonna e papà avranno una Lamborghini tutti quanti insieme, con il setto e pentole, 50 euro ragazzi. Tranquilli, potete ordinare, arriverà tutto. Non è una fregatura, ve lo giuro. Lamborghini, due, uno per nonna e uno per nonno. Se non avete nonni, non vi preoccupate. Ne regaliamo solo uno a te. E se non hai... E se non vuoi, Lamborghini, ci sono altre cose che possiamo darti. Allora... Mi ero dimenticato che era questa la porta. E' solo che era quella... La sicurezza di sicurezza. Premere il tasto per accendere le luci. Guarda lì, ho finito. Che si accende? Che c'è? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. No, là, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Chi è? Fico, ti puoi vedere il culo a tu. Lui è che mi ha sbattuto il buco del culo in pace, ragazzi. E questo vento di voi, il mio gatto. Cocco, devommo via. A me è bello sto ciccione. Però ve lo dico, per me siete stati, diciamo quella cosa che ha riempito quel vuoto che io ho avuto per tanto tempo, perché alla fine è rimasto vuoto alla mia vita, anche se sono tornato qui. Gli amici e tutto c'erano, però avevo il vuoto profondo nel cuore. Il vuoto che l'ha riempito siete stati voi, perché alla fine siete stati la mia più grande soddisfazione e siete quelli che effettivamente stanno realizzando quello che era il mio sogno e quello che era il sogno anche suo. Quindi alla fine voi fate parte di questo progetto insieme a me.